Salve, buongiorno, sono Ficozzi, sono un selezionatore di perapao e faccio formazione nell'approccio alla filiera del cacao, quindi dalla pianta fino alla massa di cacao e tutti i derivati di cacao. E quindi cosa ci farei vedere esattamente adesso? Iniziamo a introdurre un attimo in ascolti. Allora, faremo una piccola introduzione al cacao come materiale di matricola, che farò un po' capire sia la parte storica che la parte tecnica dell'evoluzione dalla fava, quindi dal seme di cacao, o meglio partiremo dal frutto. Partiremo dal frutto del cacao, vi spiegherò un po' quali sono i passaggi per arrivare alla massa di cacao e poi insieme ai gelatieri con pipe loro vi faranno scoprire l'applicazione della massa di cacao nel gelato. Esattamente. Allora, io mi presento, sono Fabio Bracciotti e io farò un sorbetto con la massa di cacao, quindi faremo una cosa abbastanza semplice di fondo, però utilizzeremo, poi vi spiegherò anche la risultazione che sarà particolarmente carica di soliti, poi vi avremo un po' più rispetto. Poi andiamo a presentare gli altri, abbiamo qui la nostra Presidentessa Coen, Patrick Ida Di Piaggio, che sta sembrando, Ida. Stiamo preparando una sorbetto di torduia, lo spiegheremo dopo. E Osvaldo Palermo che si sta divertendo, adesso vedi un po', torno a te. Allora, abbiamo preparato con, partendo dalla granela di nocciola, abbiamo aggiunto poi le pavie di cacao in granela e abbiamo fatto questa gianduia amara che va utilizzata all'interno del gelato. Fabio diceva prima che lui fa un sorbetto di cioccolato e io ho preparato, sempre utilizzando delle masse, due tipi di gelato con latte. Quindi con la stessa ricetta vi ho preparato una sautomego di origine e un costa d'avorio, quindi avete la possibilità di assaggiare con la stessa ricetta due origini diverse per capire le differenze. Il cacao, prima di essere un semilavorato, è un prodotto agricolo. È un prodotto agricolo che cresce e viene coltivato solo e effusivamente sulla fascia quadriale. Non è facilissimo come materiale agricolo. È una pianta molto delicata. Ci sono circa 1235 tipi di genetiche diverse di cacao. Spesso vi viene presentata la suddivisione del cacao nelle tre famiglie, no? Crioli, Forastero e Trinitario. Quello lì fu un grandissimo errore botanico fatto da G.P. Pound, che era un agronomo inglese, il quale non capendo lo spagnolo andò a selezionare delle tipologie di cacao che si trovò sull'isola di Trinidad e li chiamò a Trinitario, nella categoria di lezione. Sbarcato in Venezuela, vide che c'erano altre tipologie di cacao, chiedendo che cosa sono questi, lo riso, questo è il cacao crioglio, che in spagnolo è il cacao che si trovavano in Venezuela. Nel momento in cui si imbatteva un cacao amazzonico, chiedendo agli agronomi venezueli, diceva, questo che è? Ah no, questo è Forastero, è Forastero. Questo ha, in qualche maniera, confuso molto l'idea. Serve molto commercialmente perché poi nel tempo ha acquisito dei significati diversi. Diciamo che il crioglio e il Forastero vengono definiti quei cacao aromatici e i Forastero sono i cacao meno aromatici. Anche in questa divisione ci sono tantissime incorrettezze, perché poi noi ad esempio oggi Cosvaldo farà due gusti con due cacao che vengono definiti Forastero e prima sono due cacao aromatici. Una melonado di Sautomè, che è un cacao molto particolare, e un bivou, che è un cacao rigoriano, molto piccolo, è una fava selvatica. Poi c'è qualcuno che l'ha vista in terza giornata. Qual è il concetto? Mi basti sapere che nel cacao ci sono dieci famiglie genetiche. Da queste dieci famiglie genetiche si partono tutte le suddivisioni dei cacao che è privato in giro per il mondo. È come per i bivou, stessa identica cosa. Quindi già incominciare ad approcciare in maniera diversa al cacao. Io devo ringraziare tantissimo la compagnie, ma ringrazio in generale i gelatieri, perché devo dire che noi facciamo formazione di lavoro nel mondo del cacao da 16 anni. E faccio formazione anche a pasticceri e cioccolatieri. A oggi l'unica categoria che abbiamo trovato in grado di recepire veramente il concetto del cacao prodotto agricolo sono i gelatieri, perché fondamentalmente nel grande mondo della dolceria sono quelli che lavorano la materia prima agricola. E questo è un dato di fatto, non perché sto al prezzo della gelatieri, ma lo dico anche ai pasticceri. i paesi... l'Italia, da questo punto di vista dovete sapere che l'Italia ha una storia lunghissima del cacao. Il cioccolato nasce... il cioccolato, quindi cacao più zucchero di canna nasce nel 1590. Sono delle suore spagnoli che aggiungono lo zucchero all'oxopoatro, all'acqua amara di cacao. Prima di quella data c'era un milanese, il Benzoni, nel 1585 che girando il mondo assaggiò questo cioccolato e disse far più beberaggio di maiali che figliomini, perché in Italia c'era già una grandissima tradizione di dolce legato allo zucchero di canna. Perché la dolceria siciliana è una di quelle più famose? Per un motivo semplice, perché Federico II sviluppa la coltivazione della canna da zucchero. La Sicilia è stato dal 700 d.C. a metà 1500 il più grande produttore mondiale di canna da zucchero e il controllo della finiera della canna da zucchero era fatto dalla Repubblica di Venezia, dal Gran Ducato di Toscana e da Genova. Erano i tre operatori commerciali che portavano la canna da zucchero tutto il mondo. Quindi voi immaginate la borghesia o la mobilità di Venezia, di Milano, di Genova, di Firenze, quando approcciavano un prodotto amaro, astringente, avevano delle difficoltà perché avevano già un palato avvezzo al dolce. E questa è una cosa importante da ricordare. Il gelato senza zucchero come si fa? Perché il gelato, la Sicilia? Perché la canna da zucchero veniva coltivata dappertutto. Dove c'erano gli arancetti si coltivava canna da zucchero, canna mela è la pianta della canna da zucchero, tant'è che è rimasta nella tradizione italiana come l'indicazione della spezia, la canna mela. Noi abbiamo l'ultima coltivazione strutturale di canna da zucchero in Italia a Marsala. Nel 1940 due fratelli, nell'atto di successione dal pari, a uno gli arriva il vigneto e gli olivi, all'altro gli olivi con il canna melito, perché la canna da zucchero si coltiva o in mezzo agli olivi o in mezzo a altre coltivazioni. Anche in Africa, che è il primo produttore per l'approvvigionamento italiano, si coltiva tranquillamente in mezzo alla coltivazione del cacao, del caffè, in mezzo a altre coltivazioni sono dei canni. Perché è importante sapere questa cosa? Perché proprio la grande conoscenza dello zucchero ha fatto sì che nel 1606, in tutti i testi spagnoli, voi notate che nel 1600 voi se volevate assaggiare cioccolate lo trovavate o alla corte di Spagna o in Italia, non c'erano altri posti nel mondo dove potevate assaggiare cioccolate. E perché in Italia? Perché noi avevamo la canna da zucchero. I testi spagnoli nel 1606 dicono come le due città dove si mangia, dove si beve la miglior cioccolate del mondo sono Venezia e Firenze. Perché? Perché c'erano gli archiatri che erano un po' farmacisti, erano un po' gastronomi, erano un po' gelatieri, erano quelli che sperimentavano la parte saluta del cibo. Per oggi noi è una riscoperta, dobbiamo curarci con il cibo. Nel 1600 questo problema non esisteva. Per loro era chiaro che il cibo era una medicina. Se voi andate a vedere alla Magliana di Bologna, ancora nell'archivio storico c'è attaccato al muro il prezzario dove c'è scritto nel 1798 cioccolato pettorale, cioccolato omeopatico, il cacao e il cioccolato sono da sempre un alimento di salubrità. Quindi gli italiani che fa? Lo sperimentano. I primi due grandi sperimentatori sono stati Antonio Tarletti il fiorentino e Francesco Redi aretino. Sono quelli che inventano l'inflorage, il passaggio degli aroni dal fiore vivo alla massa di cacao o altri prodotti. Sono quelli che iniziano a modificare la tipologia di raffinazione della materia prima. Sono quelli che iniziano in qualche maniera a capire come funziona il cacao. Un altro grandissimo nella storia del cioccolato mondiale è stato Vincenzo Corrado. Vincenzo Corrado era lo sperimentatore, l'archiatra dei Borboni. Lui nasce a Grottaglie del Salento e poi va a lavorare a Napoli. È lui che fa il primo ricettario strutturale in cui specifica addirittura per ogni tipo di cacao da piantagione diversa quale le fosse l'uso. Non è che con ogni tipo di cacao si può fare tutto. Noi oggi abbiamo sia un artigianato che un'industria nazionale che stanno ricominciando a presentare varie tipologie di cacao. Ma siamo ancora molto indietro rispetto al 1600-1700. Nel 1700 ti scrivevano nella ricetta se tu dovevi usare il soscomusco della lagandona, che è un tipo di cacao coltivato in una piantagione. Perché con quello ci potevi fare il cioccolato in tazza. L'altro che non si addensava lo dovevi tagliare con il belize. Quindi è una conoscenza che va a riscoperta. Diciamo che la storia italiana è stata in qualche maniera cancellata a partire dall'autarchia. Quando non è più stato possibile far arrivare la fava di cacao d'Italia, sono sopravvissute solo due tessuti forti. Quello piemontese, perché hanno potuto integrare la coltivazione con la nocciola, e quello siciliano della zona di Ragusa, Modica, perché lì hanno mandorle, gli stacchi e nocciola. Quindi sono dei semi oleosi che hanno integrato in qualche maniera gli impianti e gli artigiani. Bologna, c'è una Magliani, che è un pezzo di storia importantissimo, perché è la più antica azienda di cioccolato europeo e non ha mai cambiato rotta. Ancora oggi c'è il gestito della famiglia Magliani. Loro raccontano che negli anni dell'autarchia della Seconda Guerra Mondiale passavano dalla lavorazione del cioccolato, alla lavorazione delle caramelle di Carruba. Fu la Carruba che permise all'azienda di sopravvivere. Non fu così per tante altre aziende in un giro per l'Italia. La cosa bella è che in tante città si sta riscoprendo la tradizione. Genova è una città dove ci sono due aziende storiche che hanno rimesso in piedi gli impianti antichi, Viacenza, ci sono tante città che stanno ricominciando. Speriamo che ce ne siano sempre di più, che hanno fatto che i gelatieri riprendano a fare il gelatiere tutto puro, perché poi anche nei testi di gelateria, se voi andate nei testi del Seicento, non c'è scritto il gelato al cacao, c'è scritto il gelato col cioccolato, perché molto probabilmente il gelatiere lo faceva il cioccolato e lo faceva così. Allora, arriviamo qua. Io per vedere i testi sono facili, se no io vado a lavorare. Allora, questo è il frutto del cacao, si chiama cabossa o mazzorca. Questi qui sono due cacao particolari, sono due cacao della Colombia, venivolo 3-7 giorni fa, nella regione della Rauca. La regione della Rauca è una delle regioni che fino a poco tempo fa era sotto il controllo completo delle parti, quindi sapete adesso in Colombia c'è la pacificazione, i guerriglieri hanno deposto le armi e si è potuto iniziare ad entrare in quelle aree. E abbiamo trovato dei cacao antichi, da piante di 70 anni, abbandonate nella foresta, che però hanno dato dei cacao pazzeschi, con un bouquet aromatico molto ampio. Questo qui è la Rauca, è uno dei cacao più fregiati che si trova in zona. Qual è, cosa fa molto la differenza sul bouquet aromatico? La presenza o meno del tasso di polifenoli. Quando vedete la fave di cacao, è scura, se noi la tagliamo dentro, è rossa, perché sono i polifenoli, sono i tannini. Le fave con il bouquet aromatico più ampio sono bianche, completamente bianche, non hanno tannini, perché quelli con i polifenoli sono molto migliori per la salute, perché hanno polifenoli e catechina, però sono molto più difficili da lavorare e da far esprimere nella lavorazione. Allora, com'è la capossa? È un frutto che fondamentalmente tiene un segreto, serve a celare all'interno una pannocchia, questa all'interno della capossa. Come potete vedere all'interno c'è una specie di pannocchia con i semi del cacao. Ovviamente, valutate che questa qui è un frutto che ha già una decina di giorni, quindi la parte che qui pianta, che vedete molto secca, era la parte maggioritaria, è una polpa. Perché è importante la polpa del cacao? Perché è la parte che fermenta. Il cacao subisce lo stesso identico processo dell'uva. Ha una fermentazione a tre fasi, fermentazione alcolica, fermentazione lattica, fermentazione acetica. È in questi passaggi che il seme del cacao, che è una spugna, va ad assorbire tutti gli aromi che nascono in fermentazione e attraverso la fermentazione la fermentazione acetica che uccide il germoglio, diventa uno scrigno che si chiude. La fama di cacao tiene tutti gli aromi della fermentazione. È per questo che noi dobbiamo tostarla per farneci fuori. Perché attraverso la reazione di Maillard, tutto quello che si è inserito all'interno durante la fermentazione, noi lo rendiamo disponibile per la trasformazione in massa di cacao. Allora, sono un po' secchiato, però se qualcuno vuole assaggiare, va solo ciupata, come si dice in spagnolo. Si può solo un po' succhiare. Valutate che è un po' stantica. questa qui, ora assaggiate qua, vuole dare impiantagione. No, non è propriamente vero. C'è un'azienda nel bolognese che fa importazione di tutta fresca. Ce n'ha un tipo solo, però intanto se qualcuno vuole assaggiare, la può provare insomma. Ancora un po', eh. Non la masticate, eh. Oddio, per caldo. Ah, in Colombia e in altre zone di Sud America ci fanno il gelato con la polpa fresca. Si. Perché quando inizia la fermentazione, si di due fa, quindi con quel primo liquido si va a fare il gelato. Gelato spettacolare. Si. Assumina molto la polpa di mango. Allora, una volta che, che succede? Voi avete succhiato la parte esterna, vi ho detto, adesso ce n'è molta di più, immaginate che ce n'è molta di più. Se noi andiamo a tagliare la fava di cacao, dell'altro. Eccolo qua. Ah, ecco, vedete? Siamo cantati bene. Questa è rosa pallido. Ma vedete che c'è l'estriatore bianche. Se noi aprissimo, avessimo avuto la caposta fresca del Sautomè o del Costa d'Avorio, il Sautomè era nera. Il Costa d'Avorio era molto rossa a bordo. Che succede? Come avete visto, c'è l'estriatore e c'è il picciolo bianco, no? Quello lì è il germoglio. Con la fermentazione acetica quello si brucia, muore e fa da tappo, chiude la fava di cacao. Allora, una volta che è stata fatta la fermentazione, le fave di cacao vengono messe al sole, si fanno essiccare, si fanno essiccare per togliere tutta l'umidità. La fava di cacao, per essere conservabile, deve mantenere l'umidità intorno al 7%, perché altrimenti il cacao è il nemico dell'acqua, è il suo primo nemico, perché è un grasso. Quindi dovete sempre valutare che l'umidità, la condensa, sono dei fattori di degradazione del cacao. Allora, queste sono fave essiccate, sono fave essiccate al sole del cacao di un'umidità per renderle trasportabili, senza problematiche di contaminazione. Nel momento in cui noi andiamo a fare la torna tostatura, è una fase molto delicata per la lavorazione del cacao. Voi valutate che una delle differenze fondamentali tra la maggior parte delle aziende italiane che lavorano in cacao aromatico e stranieri è che in Italia c'è un'attenzione particolare alla tostatura bianca del cacao. Quando si va spesso, quando avete quei cioccolati molto astringenti, sono quei fondamentali che hanno una stringenza forte, li asciugano la bocca e chiedono acqua, quello lì è perché è stata fatta una sovratostatura, hanno caramelizzato e poi hanno bruciato la parte grassa. Quindi in quella maniera hanno rovinato una delle parti aromatiche. Però sono degli stili, perché come dicevamo prima, in Italia il cioccolato è sempre stato con due ingredienti, fave di cacao e zucchero di canna. Negli altri paesi c'è stata la industrializzazione del processo. Per industrializzare il processo c'è necessità di una reologia diversa. Quindi la vischiosità del prodotto deve essere molto leggera per poter passare in pianti grandi e si è andato verso le coperture spunte. Qual è la differenza tra un cioccolato all'italiana e un cioccolato di copertura? Nella copertura alla parte cacao viene aggiunto burro di cacao estratto da un altro tipo di materiale agricolo. burro di cacao è un processo industriale. Si usano delle presse giganti che sviluppano 600 atmosfere, vanno a sollecitare la struttura della massa di cacao, a 80 gradi di pressione collassa il burro di cacao e si stacca. Quindi avete polvere e burro di cacao. Quel burro di cacao viene reimmesso in un'altra massa di cacao per renderla più fluida. L'immissione di burro di cacao e il cioccolato di copertura varia tra i 10 e il 20%. Qual è la problematica principale? Che se tu ne usi un po' semplicemente per farla girare negli impianti vai a modificare leggermente il profilo aromatico. Se tu già viaggi del 10% hai cambiato la struttura organolettica del prodotto non c'è davanti. Quindi è difficile presentare un prodotto in mono origine. Il prodotto in mono origine all'italiana significa che viene usato solo il cacao di quella per ragione. Si sta andando verso coperture mono origine per cui alcuni hanno iniziato a pressare lo stesso lotto che vanno poi a fare il cioccolato e prendono il burro di lì. Ma in ogni caso tu hai modificato la struttura. Perché io parlo molto? Perché io parlo di cioccolato all'italiana? perché c'è una filosofia diversa di approccio. Perché voi fate il gelato al pistacchio con il pistacchio di bronchi dell'azienda tagli in tali? Piuttosto che usare la nocciola, la tonda gentile dell'anghiere, la gippone, la romanato? Perché? E poi sul cacao invece non sapete neanche che cos'è. Perché il modo, la mentalità, la filosofia artigianale italiana è quella di sapere la materia prima che usano. Spesso tanti di voi vanno direttamente nel noccioleto. Adesso la settimana prossima ci sarà chi viene a vedere i mandorleti di Sicilia. Perché vai a provvigionarti direttamente a conoscere la materia prima agricola. Nel cacao fino a poco che potremmo fare, non era facilissimo. Oggi con i voli low cost, internet, la mobilità mondiale che c'è, è una fregnaccia. Non era, no? Poi dopo c'è anche l'impatto verso i paesi che producono. Io parlo di più che c'è, non c'è venuto con me. Io dico sempre quando volete conoscere la filiera, vi dico quando parto, vi fate provare in aeroporto e vi faccio vedere la materia prima. Perché è il modo migliore per un artigiano di sapere cosa sta facendo. Perché capisce anche il contesto. Quando voi, è ovvio, mi piace perché qui sta lavorando su artigianalità. L'artigianalità c'è anche la parte di racconto, il legame anche con le persone che curano la sua materia prima. Osvaldo ha preso mano con la materia prima. Allora, la testatura, noi che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a portare una temperatura di almeno 120-125 gradi al cuore della pava di cacao. Quali sono le parti che creano difficoltà nella procedura di andare a cuocere il cuore? La cascariglia, la pelle. La pelle del cacao, la buccia è sete, è molto dura. Ce ne sono alcune che sono anche molto dense. Quindi la tostatura deve riuscire a capire come passare la cascariglia senza caramellizzare l'esterno della pava e andando a colpire il cuore. Il cuore deve arrivare a 120 gradi per un 5-6 minuti. Quando il cuore ha vissuto questa esperienza dei 120 gradi per 5-6 minuti, avete aperto lo spugno degli aroni. Poi, in base al tipo di cacao, o si va a caricare un po' la tostatura, ma si può fare al massimo 130-125 che fa sviluppare il costo d'avore. Il costo d'avore, ad esempio, è un cacao che ha dei grassi molto complessi. Il burro di cacao e il costo d'avore ha 5 lipidi diversi. Per riuscire a farli esprimere tutti, serve una tostatura leggermente sforzata. Per un cacao blanco come quello che avevo aperto prima, invece, serve una tostatura bianica. Quindi una volta che voi avete raggiunto i 125, si abbassano. Eh, serve il naso. La tostatura si fa al naso. La tostatura appigianale, eh, va a vedere. Perché adesso, da un po', adesso qui ancora non ci siamo. Appena, appena avrete colpito il cuore, sentirete che cambia. Parte proprio l'aroma. Inizia, no? È un momento. È come quando una mattina passate, no? C'è il palettiere che scorna il pane. La reazione di Maialzi è uno dei metodi per cui ci siamo evoluti, no? Quelli che amavano la reazione di Maialzi, che avevano una cosa buona, consumavano un cibo che era ben cotto. Quindi era immune da contaminazione o da batterizzazioni e non era appoggiato. Quindi aveva una longevità più lunga. C'è un momento che, bam, è finito. No, una volta che è partita, in base al tipo di cacao, o la vai a sforzare un po', o la abbassi e poi la puoi asciugare da 90 gradi. L'asciugatura è importante perché, nel momento in cui tu apri il cuore, sprigioni anche la parte grassa. Quindi la pava potrebbe diventare un po' elastica e serve una base di asciugatura per togliere tutta la parte residua e arrivare all'uomo del centro che è diventato il prodotto. Allora, come siamo? Quasi. Comunque, allora, facciamo una cosa. Questa qui che cos'è? Questa qui è una molle di raffinatore. È una pietra su pietra. In Italia il paleolitico si chiamavano macine a sella. È quello che tutti siamo evoluti. Abbiamo iniziato a macinare sempre. Qui useremo una granella di cacao, semplicemente una fava già tostata e sminciata. Poi vedrete come si comporta. La fava di cacao, una volta tostata, abbiamo detto a sviluppare tutti gli aromi e ce li rende disponibili. Nel momento in cui non la andiamo a sollecitare, la fava di cacao si trasforma, cambia stato, diventa massa di cacao. Quindi voi siete andati a rompere. Adesso vedremo. Chi è che vuole trovare? Teo. Allora, prego. Prendi. Aggiungere un po' di limone. Aggiungere un po' di limone. Aggiungere un po'. Andrò con l'altra mano qua. Non avrai paura. Vieni qua. Vieni qua. Quanto esci subito. Ovviamente essendo qui al freddo e a cielo mi sono tutelato. come vedete sotto ci sono delle cantene perché il burro di cacao a che temperatura scioglie? a 26 gradi che è la temperatura ambiente la temperatura della bocca prima è l'ultima prima è l'ultima ci siamo hai rovinato la mano vai 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 fai il sorriso da oggi in poi se la gioca a cacao allora questa è la massa di cacao come vedete abbiamo fatto i fiumi non l'abbiamo fatta al mango l'abbiamo fatta con una mola a fiuma un po' più veloce allora perché la nocciola si può caratterizzare il cacao nobile? per un motivo legato alla struttura fisica del seme la nocciola ha il 60% di grassi che è un olio non un burro quindi è una struttura molto più leggera caratterizzando il calore che si sviluppa con le lame prima che vada a rovinare la struttura del prodotto ha già fatto il sorriso col cacao invece le fave di cacao hanno un grasso tra il 48 e il 52% in base alla tipologia di cacao e sono dei grassi diversi come dicevamo prima in questo lavoro c'ha 5 lipidi uno dei burri quindi la lama prima che riesca in qualche maniera a rompere il legato interno e a chiedere la massa o bruci il motore o bruci il cacao che è stata la problematica principale quali sono le tecnologie migliori per lavorare la massa del cacao? o moli a pietra ma la moli a pietra è stata la prima il primo brevetto sul cacao italiano nel 1804 un genovese Bozzelli modificò le magiche per le uribe per la famiglia Caffarelli Caffarelli è il nome commerciale la famiglia Caffarelli gli modificò le macine per poterle applicare all'uso del cacao quindi fare massa di cacao da lì a cambiare misura diciamo che le ultime molli fino a 7-8 anni fa in Italia non si conoscevano più le ultime prodotti erano le famose battagioni che si facevano poi con una pietra con un mito erano delle macchine ma ancora oggi ce le ha qualche c'era o chi è che le ha recuperate sono bellissime non sono molto modulare sono bestie così sono quelle che vengono i scolici sono belle però non è che si possono usare bellissime quella è una tecnica adesso diciamo che all'estero si è ricominciato prima a fare le mulazze adesso si è ricominciato anche in Italia ce ne sono c'è soltanto un'azienda però in maniera abbastanza funzionale anche se non si è arrivati a fare quelle piccole da laboratorio ci si arriverà perché ci sono arrivati gli stranieri che stanno iniziando a fare concorrenza quindi anche le aziende italiane adesso stanno iniziando a svegliarsi è la macinazione a pietra è quella che in qualche maniera ti permette di fare una macinazione più dolce e ti fa un doppio effetto la munagra queste qui sono due pietre che girano non so se si vede? no aspetta vedete? sono due pietre si vede? si? no più o meno sono due pietre pietra su pietra pietra su pietra cioè non fa nient'altro che quello che abbiamo fatto a mano facendo l'apertura la parte di acidità con il calore che va a scaldare lievemente emerge quindi noi in qualche maniera andiamo a fare quel passaggio e in Italia non si è mai fatto il concaggio in Italia non si concava perché veniva lavorato a pietra e quindi da parte di acidità che tu non eri riuscito a gestire in conventazione o in dosatura l'andavi a ammorbidire in raffinazione chi è che ha inventato il concaggio era inventato gli spagnoli però chi è che l'ha portato all'estremo l'ha portato all'estremo gli svizzeri perché gli svizzeri perché gli svizzeri erano i garazzoni delle botteghe degli artigiani polinesi lavoravano lì perché erano pochi andavano a scaricare i santi ha preso la tecnica di trasformazione del cioccolato però non avevano un approvigionamento di materia prima di qualità quindi arrivava il cacao fallato quello che aveva fatto una brutta fermentazione aveva preso delle umidità erano dei cacao difficili da lavorare e quindi cosa fanno inventano questa concaggio lungo per due o tre giorni qual è il problema fondamentale del concaggio quando si va a lavorare con una prima aromatica che se tu un concaggio lieve è una fase stilistica che puoi fare per ammorbidire una spigolatura di un aroma piuttosto che un altro la concaggio quella a un giorno due o tre cosa fa togli acidità ma togli anche aroma tu appiattisci il prodotto prendi un prodotto standard e quindi a quel punto a cosa serve che io vado in piantagione controllo la fermentazione so che piantagione solo con un cenallo non ha senso con questo ok vediamo qua ci siamo quasi ci siamo quasi allora quindi qual è il discorso che anche oggi anche aziende italiane che lavorano con un pulino a figlie che è il mio uno dei miglior affinatori che in meno tempo riesce a fare un lavoro migliore hanno delle tecniche per non concare fanno una parte di raffinazione a una temperatura data ognuno ha delle scelte diverse e quindi tolgono quella punta di acidità eccessiva ma mantengono tutta la parte aromatica perché è importante la parte aromatica? allora perché è importante la parte aromatica? perché anche nel momento in cui voi voi andrete a fare una lavorazione partendo dalla massa di cacao avrete un bucchetto di aromi diversi ogni tipo di massa vi darà un gelato diverso vi darà un soltetto diverso stessa cosa qui abbiamo fatto la gianduglia partendo dalla massa di cacao nocciola in massa il giandugiotto nasce così la voleva una sedia a Torino in Savoia volevano continuare a mangiare il cioccolato cosa fanno i cioccolatieri sicuramente piemontesi sostituiscono quel poco cacao che gli era rimasto integrando proprio con la nocciola quindi resta il colore resta quell'aroma di fondo ma fondamentalmente hai creato una struttura diversa il giandugiotto molle ma il giandugiotto si faceva dalle favore di cacao mi manca di un pelo è che purtroppo l'induzione è un po' più difficile però ci siamo inizio a sentire l'alcina allora per la parte del gelato però la passo a voi allora ecco 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 facciamo anche fare ecco allora niente quello che stiamo servendo è un sorbetto rispetto alla massa di cacao in realtà qui ho forzato un po' la mano nel senso che come come sorbetto come potrete notare ha una percentuale di solidi molto alta quindi ho voluto un po' giocare, ovvio che in gelateria non fai una cosa di questo tipo. Qui siamo su una percentuale di soliti, stiamo vicino al 50%, quindi andiamo oltre al concetto tradizionale del gelato come discorso. E come zuccheri, in questo caso, non abbiamo inserito degli zuccheri canonici come saccarosio, ma zuccheri con un potere anticontrolante molto alto come il fruttosio, il potetestrosio e anche una fibra, come discorso. Quindi abbiamo un gelato che riesce a rimanere comunque a temperatura negativa da meno 30-15, quindi c'è anche molto cremoso, nonostante abbiamo questa percentuale di soliti altissima. E niente, ecco qui. Il cioccolato in questione, in questo caso, non lo so di più, troppo, avevo, però... E' un cioccolato che viene dall'Equador e una massa di cacao che dicevo prima e quindi questa è la struttura che abbiamo adesso. Allora, guardate, qui vedete, c'è una pompeggiatura, no? Quando si è brumata la parte grassa, questo può essere una scelta o può avvenire quando la raffinazione è superiore al minuto. Quando avete un cioccolato e lasciate leggermente greggio, molto più facile che il gelato, vale in qualche maniera ad attenzare i grassi. Infatti, tu hai detto una cosa molto interessante prima, sul discorso della differenza dei grassi che poi hanno che deve essere i grassi di cioccolato, di cacao, di cacao, di cacao... Cambia, cambia. Cambia, cambia. Cambia, cambia. Cambia, 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 cambia. Questo è un concetto non facilissimo da trovare poi come documentazione, no? Ma insomma, va a creare una recettazione, fondo. Sì. No, questo non ha fibre, non ha proteine, pure è così, non ha, non ha, insomma, dimmi. Non capire, non è di food cost rispetto a uno standard, diciamo, in food cost. Da quarte di cose. Beh, ovviamente qui abbiamo, ha indolta il 51% di solidi, diciamo, sono la recettazione, abbiamo inserito una massa di cacao molto alta, per vedere. Questo considera che siamo di circa 490 grammi per kg di massa di cacao, quindi il costo è molto alto. Non è 190 grammi. Non è un prodotto che tu puoi avere al banco e venderlo allo stand, è un prodotto che io ho fatto oggi perché ha un contesto diverso, non è una cosa che... come avrebbe detto qualcuno, non è un sorprendente. Sì, diventa quasi una mosse, ovvio. Questo l'avevo già detto all'inizio, va oltre al concetto di vincelato, così. Avete dato degli soldi che ho facendo delle collaborazioni con il gelatino? Come percentuali di grassi? Come percentuali di grassi qui siamo a 15,80, siamo a questo valore. Quindi 51% di solidi e 20,8% di zoppi. La sappiosità, come diceva lui, è come diceva lui, dipende da come viene lavorato in origine. c'è da dire una cosa. Io ho visto che le recettazioni di soldi che fanno sulla massa di cacao vanno tra il 10% e il 22% massimo. Tu in questa maniera vai a scorzare la struttura perché... Sì, qui è stata una forzatura voluta proprio, ma siamo andati molto, molto oltre. C'è un... ad esempio... c'è un gelato sperimentale che ho visto dove si va a lavorare senza zucca, no? O meglio, non si usa l'accarosio, con molette. Ah, finito qua. Già, sta finito. La carruba ha un effetto particolare con la massa. C'è un... diciamo delle elaborazioni, si chiama estratto di carruba. È un estratto dalla polpa della carruba che è un... come definirlo? È uno scirocco. Non è uno scirocco perché non viene fatto per l'infusione dalla polpa della carruba. Quell'estratto con massa cacao e acqua crea che è una struttura molto omogenea. Non vedete la perdita della rinunitore. Grazie Paesco Palermo. Puoi sentire? Qua siamo andati un po'. Qua siamo andati leggermente fuori. Qua siamo andati leggermente fuori. Purtroppo sì, l'induzione è difficilissima. Allora, se volete fare dei tentativi, non avete, ne so, avete pavo di cacao, potete fare tranquillamente la tostatura con forno a confezione. Nel caso voi non dovesse averlo nel laboratorio perché magari non fate lievitare queste cose qua, potete farlo a casa. Classico forno a infezione ventilata. Con teglia a griglia o con teglia normale, se non ce l'avete, mandate il forno a 130 gradi, aprite, inserite dentro, quindi sarete scesi a 120, 118, portate a 125, in 7 minuti e a un certo punto sentite proprio l'aroma che si sprigiona. Da lì abbassate e tirate fuori. Se voi prendete queste fave di cacao, chi è che le vuole spuggiare? Ma l'ha, haci. se volete vedere come vi dicevo prima quando io parto si potete anche lo mangiare cruda più che altro è un problema perché non sapete se è debatterizzato o meno allora qual è la problematica principale dal punto di vista sanitario delle fave di cacao le fave di cacao nel momento in cui voi non avete la certezza che avete visto come l'hanno coltivata come l'hanno selezionata e come sono state gustate nel percorso potrebbero sottolineare di contaminazione parliamo sempre di contaminazione lieve parliamo di contaminazione pesante ma al massimo è un problema gastrointestinale però comunque avere un artigiano che fa che è sottoposto ai protocolli di HCCP deve avere anche questa cura perché volete la costatura a 125 gradi perché la costatura a 125 gradi non è solo quella che fa aprire la lezione di Pagliano è anche quella che di batterizza vi toglie la maggior parte dei batteri presenti soprattutto sulla pellicina nel 2017 ci deve essere l'artigiano ci deve essere l'industria e ovvio quando l'industria ogni tanto la fa fuori dal vaso allora le fave di cacao se vuoi andare sul sito fermentocacao.it che è un movimento informale di personaggi in giro per l'Italia che stanno parlando il rinascimento del cioccolare italiano ci sono varie aziende che hanno più che altro per ricostruire la storia vedete il documentario sull'ultimo cioccolatale di Vente ancora è vivo sta modica quello fa tutto a mano lo tosta, sbuccia, mette in lì non c'ha protocolli di varia natura fa una cosa che è modica fanno da 423 anni non è mai morto nessuno lui c'ha quasi 90 anni sa in perfetta salute mentre ci sono stati casi molto gravi in Canada per il cosiddetto robo chocolate cacao crudo allora ve lo dico qua apertamente sfido cacao crudo è una merdata la facciamo merdata è una stronzata ve lo dico semplicemente perché questo è cacao crudo pur nel momento in cui noi l'abbiamo aperta qui è già partita la fermentazione la fermentazione supera sempre 50 grammi allora io io rispetto il prurismo quando è scientifico quando invece è un abutato commerciale e soprattutto io mi trovo a dover pagare 180 euro al chino un cioccolato cattivo di sapore che tra parentesi nessuno ha mai dimostrato che ci abbia di bene di salività perché noi l'abbiamo fatta l'analisi con l'industria farmaceutica naturale italiana io sei anni fa fece un'analisi aboca un'azienda su cui si può dire poco loro fecero l'analisi nelle fave tostate loro fecero fave crude crude nel senso tirate a cuore la capossa fave essiccate queste qua e fave tostate la fava essiccata e la fava tostata sono quelle che hanno il polifenoli la catechina più alta e soprattutto non è vero tanti di quelli che fanno crudismo dicono che usano o il Perù o l'Equadatta sono il cacao che ha meno polifenoli di tutti perché i polifenoli ce l'hanno il cacao scuro non ce l'hanno con i piali quindi dicono tante fregnace di seguito e purtroppo hanno indicato quindi a un certo punto è successa questa formia per cui l'artigiano italiano che fa un prodotto di eccellenza di qualità superiore conoscendo il processo non riesce a vendere il proprio cioccolato al prezzo che gli permetterebbe la sostenibilità ma fare cioccolato all'italiana non ci si campa almeno oggi e c'ha una remunerazione talmente bassa per poter stare sul mercato italiano e non ti permette di camparci se non c'hai un'attività accessente questo si chiama a tutti soprattutto quando poi trovi queste mode nel momento che non hanno alcuna base scientifica che ti tolgono una parte di quel mercato che sarebbe disposto a spendere nel momento in cui avessi la consapevolezza di quello che sta preparando sul cacao crudo mi fa capire anche la malafede di cui lo fanno scrivono sulle loro etichette burro di cacao crudo allora per fare la massa di cacao devi costare il cacao perché se no la massa non nasce fuori per estrarre il burro è una macchina a pressione se non sviluppa 80 gradi non collassa quindi che cosa significa il burro di cacao crudo che lo so adesso qualcuno ha iniziato a fare etichette diverse ci scrivono il ruolo con il minimo impatto come in Canada ci sta più persone sono all'almosferale perché poi facendo questa peritela tu non vai neanche a sanificare il colore non vuoi mettere mantecata avviene gelato funzionale senza mantecatura no? quindi per il che vuole pastorizzare specialmente perché non pastorizzare? avviene perché panna dal lato duro dieta ma che non viene sono delle regole di sanificare e nel momento tu ti fai a sanificare le palle di cacao e i lavori c'è gente che fai all'ospedale adesso se tu mi incana e mi ha iniziato a fare la linea sui discorsi tu stai iniziando a partire questo questo grande questo grande dibattito allora come vi dicevo qua invece siamo andati sul già Gianduia sa un'opera dopo allora aveva detto Gianduia perché Gianduia con massa di cacao la Gianduia è fatta con la massa di cacao Gianduio nasce perché alle palle di cacao una volta che avevano macinato a mano una parte del cacao mettevano le nocciole e macinavano le picciole e impastavano quelle Gianduio tant'è che non so se lo sapete assumevano le signoline che facevano Gianduio prima che venisse inventata la macchina di estrusione gli facevano un colloquio strano gli toccavano le mani se c'hanno le persone dovevano le mani fette che hanno un diverso sistema perché dovevano maneggiare i gianduio gli occhi se tu c'hai le maniche alte provi il prodotto perché il grasso della manciola è talmente forte un olio che tu lo vai a sciogliere quello è Gianduio che ti chiede lo zucchero qual è la cosa che addenza lo zucchero quindi quando lo vede Gianduio è nocciole cacao e zucchero in base a come voi variate create una pasta pura o pura la crema spalmatica la crema gianduia che cos'è è una cosa semplice 50% nocciole 10% pavoli di cacao 40% zucchero noi c'hanno una quantità variegata di olio di nocciola che può andare a rendere più spadolabile o meno spadolabile quindi è nella gestione dei grassi che voi potete fare o una crema spalmatica o un gianduio qui stiamo facendo il gelato la gianduia allora lì abbiamo fatto una crema già pronta al zucchero nel gelato è preferibile che voi andiate ad usare l'impasto gianduia quindi nocciola più cacao non so se vuoi vedere la ricetta ok adesso la la troviamo allora in questo caso è un sorbetto quindi non abbiamo utilizzato il latte o meglio è un gelato senza derivati del latte dove come zuccheri abbiamo utilizzato saccarosio destrosio e glucosio in pasta e l'abbiamo miscelato quindi abbiamo il procedimento di riscatare l'acqua di sciogliere di zuccheri e poi abbiamo realizzato ci siamo portati avanti la gianduia quindi abbiamo utilizzato il metodo della granella di nocciole con l'aggiunta di granella di bucao stai cercando il mio foglietto allora il mio telefono che suonava prima però come fate sempre a allora beh siamo su un 18% di zuccheri un 5,6% di grassi siamo bassi ma proprio perché parliamo di un gelato senza derivati del latte qualora lo volete più carico andate a giocare un pochino ma anche di gusto perché diciamo questo è un gusto nostro che è piaciuto a noi e poi lo assaggerete andando a giocare sulla combinazione di grassi oppure sulla voglia di sentire magari più la nocciola che il cacao potete creare la vostra pasta gianduia come sempre adesso lo assaggerete magari sentiremo pareri se avete domande ci sono problemi una cosa quello che diceva prima Fabio voi per avere di solito sulle nocciole la scheda tradizionale è molto decisa quindi nella vostra quando andate a costruire la vostra ricerca facendo la somma di grassi è abbastanza veridura sul cacao no perché per legge la scheda tradizionale delle masse di cacao si fa una molta l'anno il problema qual è che ogni tipo di lotto di cacao ha una caratteristica diversa può variare anche del 3% che in una ricetta di gelato magari si deve creare la stabilità di 2-3 giorni cambia probabilmente se non c'è un pozzetto qual è la cosa alcune aziende soprattutto con l'italiano se voi ne lo chiedete fanno anche una valutazione sull'otto quindi vi dicono questo lotto qua ha 48% di grasso vi rende la vita leggermente in un quadro restando sempre restando sempre sempre sul fatto che dovete chiedere principalmente se la scheda tradizionale è stata fatta onderata o analitica onderata significa che c'è stato un tecnico alimentarista che ha valutato i grassi uno zonar fare un'analisi specifica se invece magari hanno fatto l'analisi la scheda analitica e l'hanno fatta qualche mese prima è abbastanza belliera questo perché vi dico spesso quando fanno le schede ponderate non le fanno neanche su quel tipo di cacao le fanno su un cacao lo usano per diverse masse quindi è molto importante che chiediate uno se una scheda tradizionale è condonata e due se una scheda analitica magari fatta di ricerca questo vi permette anche di poter costruire meglio la ricerca e in quella maniera voi valutate che nel momento in cui andate a fare la gianduria il grasso del cacao si somma all'olio di una nocciola sono dei grassi molto compatibili quindi fondamentalmente viene definita proprio gianduria quindi un altro prodotto perché si amalgamano in maniera omogenea spesso qualcuno nel tuo laboratorio va a fare la crema spalmabile al vasettino sotto natale cede il grasso allora uno le creme spalmabili vanno bilanciate con il gelato seconda cosa dove per tutelarvi volete in quella da fare una crema spalmabile con cacao un pavere di cacao andate a fare il temperaggio come si tempera il piano in cioccolato che cos'è il temperaggio il temperaggio va a distruggere la struttura molecolare primigenia del cacao e la riconforte con quella dello zucchero quindi voi da cacao e zucchero create un altro elemento che è il cioccolato il cioccolato è una cosa diversa è il derivato del cacao stessa cosa con la gendulia nel momento in cui voi andate a smemorizzare le molecole dello zucchero che si incastrano con i grassi con la gendulia con il temperaggio rimette la struttura stabile quindi la scaldate circa a 30 gradi 38-30 gradi la buttate sul piano smatolate fino a quando siete scese a 21 e poi la riportate a 26 in quella maniera la riconforte senza stabile se avete un impianto leggermente più grande ad esempio chi è che c'è il cutter la crema spalmabile se la può fare anche in laboratorio e ovvio non può partire dalle fave di cacao partirà dalla massa ma la stessa cosa comunque se avete un fornitore che vi dà un prodotto di qualità se la può stare tranquillo ve l'ha andata ad usare sul cutter e da lì chi c'è la temperatrice lo tempera chi non c'è la temperatrice si fa un mini corti temperato non è difficile ci sono anche degli strumenti abbastanza utili testi tutto il miraggio ce ne sono un miliardo e una volta che l'avete temperata l'ha imbasettata una volta imbasettata poi ne ha un grasso a scadenza shelf life da un anno a due anni in base a come avete costruito la struttura è ovvio che è una struttura con più zucchero e una shelf life più lunga una struttura con meno zucchero e una shelf life più normale quindi è quella la discredizione è una struttura è un po' di più 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 Ora facciamo così, visto che diamo un attimo, faccio la tavoletta del cioccolato. Allora, giuriamo che anche l'integrazione dello zucchero, quando voi conoscete il cioccolato modicano, non lo conoscono, il cioccolato modicano ha questa caratteristica per cui lo zucchero resta in grado, viene impastato la massa di cacao a crudo, quindi non viene raffinato. Questo perché fondamentalmente il cioccolato modicano non nasce come cioccolato di masticazione, il cioccolato modicano nasce nella traspettabilità, il 50% di zucchero nella ricetta a grezzo, lo il zucchero è uno stabilizzante e un conservante, assorge umidità e calore, quindi permette alla massa di non minarsi e soprattutto in dialetto modicano è acirculato, è femminile, perché nonostante sia discriminante maschile e femminile è in base alla struttura fisica, quindi solida o liquida, la cioccolata è il cioccolato in spagnolo, nasce liquida, è la cioccolata in tazza, il cioccolato è la barretta, il solido, a modica si chiama A, cioccolata è una barretta, questo perché? Perché questa è una barretta originale, perché è una tavoletta con quattro scatti, ogni scatto è specificatamente 25 g di prodotto, è la dose per fare il cioccolato in tazza, questa è colombiana, vi faccio vedere, quella è la burro modicana, queste qui sono due bolas, questa qui è una bolas di nuvila, è una licenza, se voi ve la passate, che si faceva? Acqua calda, bolas e poi con il moliniglio si girava, si faceva, si miscelava e si tirava a modica lo facevano come tavoletta, come barba, adesso lo fanno tutti, ovviamente quello che è il marketing bisogna anche accettarlo, allora una volta che noi abbiamo raggiunto una buona reologia del cioccolato, facciamo una cosa semplice, ci impastiamo lo zucchero, io dico sempre che per fare il cioccolato all'italiana dovete usare il zucchero di canna, perché anche è una scelta, qualcuno sta ricominciando, qualcuno sta ricominciando, piano piano sono a presto, dovete uscire il zucchero di canna, quello integrale, perché valutate una cosa, quando parliamo del cioccolato, è ovvio che nel 600, nel 700 non lo facevano con lo zucchero di canna piante, lo facevano con l'integrale, quindi avevano una parte di limità, come facevano a non far uscire i pallini di grasso, lo tostavo, quindi diciamo che se noi oggi andassimo a assaggiare un cioccolato parte da Francesco Redi nel 600, sarebbe un esapore che ci lascia il proprio aperto, perché era anche una gestione della tostatura dello zucchero di canna, che toglie le unità. Allora, una volta che noi abbiamo impastato massa di cacao e zucchero, andiamo all'affinando, e ci siamo, abbiamo fatto il cioccolato, è ovvio che più olio di gomito più più di venta raffinato è ancora scelta lasciare spesso lo zucchero in mani a miglioranza, eh? arrivati qui si fa la partitura della tabella questa fase è molto importante, uno perché per poter far staccare il cioccolato dallo stampo deve essere comogenea il cioccolato deve aderire perché già dentro ci funziona mettiamo qui 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 mettiamo qui 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 mettiamo qui 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 mettiamo qui qui no 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 la rottura del cioccolato non è tanto legata al temperamento quanto al tipo di raffinazione se tu hai fatto una buona raffinazione quindi hai creato un prodotto omogeneo una pistola omogenea cioè hai intanto uno dei parametri di registrazione perché in quella maniera tu vai anche a capire come è lavorato l'artigiano è ovvio che a livello industriale è molto più regolare con le raffinazioni però l'artigiano che ti fa un bel cioccolato con le raffinazioni è molto importante significa che fa tutto quello che ho spesso però ad esempio questo comunque è una massa temperata e da tutti i casi il massimo per provare per creare ci hanno delle sfiniature ma non è che toglie nulla anche perché nel momento in cui tu lo vai a ritrasformare perché comunque te dovrai andare a sciogliere il colore la massa poi c'è una cosa dopo in giulatteria diciamo che abbiamo visto che varia anche quando si lavora con un produttore maggiore a vaso se tu metti la massa in discesa o in salina cambia perché non è un grasso come lo vai a sollecitare col colore potrebbe dare un risultato positivo o un risultato negativo ho visto che spesso quando viene messo in salita qualche volta c'è della struttura di grasso quindi la macchina il tirato finale tira qualche affinatura un po' brutta risultato un po' brutta un po' brutta non mi ha mai messo il giulato il testo un po' brutta un po' brutta c'è davvero al corso gli avevano detto che cioccolano sotto i 50 gradi quindi allora dici nooo che tristono in allora adesso metti sempre in discesa tanto parti dal concetto che comunque sui 80 gradi vai tranquillo e poi tra farei il risultato, non tutti si comportano in maniera uguale, io ad esempio abbiamo fatto delle sperimentazioni con alcuni giratieri, ho visto che alcune tipologie di Perù hanno un terraria pazzesco e fondamentalmente anche se lo vai a mettere in salita non cambia tantissimo, un cacao invece più pesante come un crosto lavorio, se lo vai a mettere in salita uno resta molto denso, se lo vai a mettere in salita è più facile che ti migri il grasso, quindi dovete anche vedere molto la tipologia, in gelateria si usa tanto il cacao in polvere, potresti dire due parole su come viene il prodotto e le paripologie del cacao in polvere il cacao in polvere a oggi è un problema, perché? perché fondamentalmente diciamo che la prima macchina per pressare il burro di cacao è una macchina piccolina e pressavano 10 kg a 10 kg oramai per pressare il burro di cacao esistono pochi impianti, voi vedete che in Italia ci sono solo tre, in Italia il monopolista della pressatura nel mondo è per il carbone, le impianti sparsi nel mondo è per il carbone, le impianti sparsi nel mondo, qual è il problema? perché poi invece sono anche in Sud America soprattutto degli impianti più piccoli che pressano delle monoritmi specifici, il problema della polvere di cacao è che tu non sai mai che cacao hanno usato e di solito quando vanno a produrre un cacao soprattutto alcaldizzato perché si fa l'altro questo è il risolvo a pressativo, non c'è mai il cacao in caso in cui fai massa, ci metti tutto, i siti, quello che hai interpretato male, ci metti vari tipologici che poi tanto a certi punti tu hai colorizzato, quindi quando mi permette di lasciare le note di luffa il discorso dell'organizzazione ti permette di addolcirlo o meno, di togli l'acidità o di aggiungerla il colore che dai al visivo, però fondamentalmente a oggi se tu dovresti andare a lavorare se hai una vera polvere di cacao naturale che è bianca, non è scura, la polvere di cacao è bianca e picciola, molto chiara uno non ti dà il colore che ti aspetti, la seconda cosa è una polvere di cacao che non ha una grande struttura aromatica, per cos'è che dà la struttura aromatica alle polvere di cacao? se faccio cioccolato con zucchero di cocco mi cambia il cioccolato, perché? perché il zucchero di cocco c'è un'altra base di potassica, il potassio va a moltiplicare la caratteristica aromatica di alcuni cacao, quindi cambia il prodotto finale, lo esalta, io vi dico nel senso è ovvio che tanti hanno paura a usare la massa di cacao perché pensano che il pubblico non sia pronto io dico sempre, lasciate il zucchero di cacao, fate il gelato di massa e fate di capire la differenza il pubblico è il piacere, il pubblico è la massa di cacao, la gente è la massa di cacao poi ho già iniziato a fare un pubblico, è il pubblico, e ti dico che vado nel buco non c'è sempre il mio pubblico, però ancora un pubblico dopo non avvicino il pubblico C'è sempre stato questo discorso che la base, sto parlando di gelato, faccio una base di cioccolato, bisogna raggiungere questi 90 gradi o è una cosa che non serve a niente? Il cacao di solito a 90 gradi sprigiona le sue nostre organolettiche. Io non ci arrivo a 90 gradi, ti dico la verità quando parlo di sorbetto. Magari nella base faccio la base di cioccolato e la massa la inserisco intorno a 60 gradi di scena per un discorso di mio corso. Poi vi dico, conviene provare perché cambia anche da massa a massa, quindi non puoi avere magari nemmeno la stessa ricetta, va bene per la tecnologia di massa, quindi ci sono delle modifiche, soprattutto se il gelato lo mangi, cioè lo fai oggi e lo mangi, ma devi vedere anche come ti reagisce nelle altre giorni, che comunque tende ad infurire. Quindi la ricetta va vista fino in fondo, magari è un ingrediente più complicato rispetto ad altri, quello sicuramente. vi faccio una domanda che faccio sempre e io ho una certa predisposizione. Il cacao in polvere è un prodotto di scatto? Dipende da chi lo fa. Io ad esempio, no, 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 allora, in alcuni casi non è un prodotto di scatto. Ci sono, adesso ovviamente ne è capitato, un produttore di Malagascar che preme solo un burro sanbirano, ci sono due aziende venezuelane che premono, in generale nasce come prodotto di scatto, perché fondamentalmente tu vai a premere il burro, perché la parte nobile, però non è precisa come indicazione, nel senso perché è un prodotto di scatto anche come lo si va a lavorare, nel senso nasce come prodotto di scatto, perché comunque quando inventano la pressatura loro volevano il burro, nasce come prodotto di scatto. Però dire a oggi che comunque sia ancora quello non è esatto. Bisognerebbe andare a guardare il caso specifico. Io personalmente ve l'ho detto, nel senso, uno, bisogna anche portare il pane a casa, quando tu approcci verso la persona che poi ti va a comprare la coppetta, se non ha, e poi ti dico sempre, separiamo le due cose, continuiamo a parlare del gelato cacao, e parliamo di gelato di massa. Quindi fai... Cacao e il gelato contemporaneo, che potrebbe essere la massa o quello che... solo che fino al 1900 si faceva solo con la massa. Qual è il più contemporaneo? Cioè, i dolcieri in Sicilia non è che avevano la polvere di cacao, che avevano la massa fatta dai cioccolatari. Io ho visto che in giro per l'Italia, bene o male, quando si definisce gelato di massa, è abbastanza... è un momento maturo e ti permette di dare quella differenziazione che ti fa colpire un pubblico diverso. Cioè, da dire una cosa, io ho collaborato con diversi gelatieri, cioè da quello che magari mantiene due tipologie, alcuni che hanno tolto completamente il gelato da polvere, però gli si sono moltiplicati i gelati di massa. Io collaboro tantissimo con Rosario D'Angelo, che è poi quello che ha studiato un po' la ricetta del Gianguilla. Rosario, ormai, lui a banco ha quattro gelati di massa. E poi non lo chiama Criollo? Non lo chiama Criollo? Sì, allora io, secondo me invece, va preferito la conoscenza specifica del cacao. Perché poi alla fine, anche parlare di Criollo è una categoria, invece di andare proprio sulla tipologia, anche perché ogni tipo di massa di cacao c'è uno dei comportamenti diversi e c'è un aroma di aromatizzatore. L'arriba dell'equador, di solito, hanno questa forza di frutti rossi molto marcata che se uno la sa fare esprimere con il sorbetto va bene. Secondo me l'arriba, ad esempio, con il latte perde, mentre quando tu vuoi fare un latte con un costo d'amorio o con dei sur del lago, era un'esplosione, sembra proprio un matrimonio fatto ad occhio. Stessa cosa con la Gianguilla. Ah, questo qui è il costo d'amorio latte. Questo qui è un divò. Allora, il divò che cos'è? Il divò è un'area specifica della costa d'amorio, è la zona dove fu portato il cacao. Allora, valutate che il paese del cacao è il Sud America. Il cacao, come pianta, si autoseleziona nella valle del Maragnon, in Perù, ovviamente l'Alta Amazzona, e si diffonde in tutta quell'area lì. Attraverso il Regio dell'Amazzone, che arriva in Brasile, arrivano le tipologie di cacao più resistenti che sono quelle che poi hanno dato la radice ai cacao africani. Il cacao africano, il santo me, è il cacao africano, perché è quello che dalle sponde del Brasile viene impiantato a santo me. E' ammelonato puro. E' una capossa rotonda come un melone, fave schiacciate lunghe, ha una fortissima nota di terra, persistenza e acidità. E' la caratteristica. In questo lavoro che succede? Viene usato l'amelonato come porta inneste. E sopra iniziano a innestarci un Guayana. Il Guayana è un cacao molto diverso. È un cacao di foresta, la Guayana francese. E' un cacao molto particolare, che ha delle note di erbaceo. L'abbinamento tra questi due fa nascere il forastino, o meglio detto, francese. Tivo è la zona dove si coltiva più francese di tutto il mondo. Ha un tipo di cacao diverso. Ha, come dicevo prima, ha delle caratteristiche lipidiche molto forti, molto strutturate. E ha proprio questo sanitore, quando becchi la partita buona, sa di nocciolo. Da proprio sanitore di nocciolo. Dalla sua caratteristica specifica. E' un cacao un po' particolare perché, se si sbaglia la lavorazione, sprigiona delle acidità potentissime. Che riesce a gestire molto male. Alessandro Attilio, non so se lo conoscete. Un altro dei miei compagni gelato. Quando vi dicono, venite a vedere, lui è venuto con me un mesetto fa in Costa d'Olorio e ha potuto vedere, uno, la varietà di piantagione, due, la varietà di processo. Perché poi qual è il congetto di fondo? Il mio problema principale con la polvere di cacao qual'è? Che, se tu vai a lavorare a polvere di cacao, stai usando un cacao pagato poco. Un cacao pagato poco significa che il coltivatore porta a casa poco e lo lavora male. Di solito i sudamericani sono dei cacao più pregiati non solo perché la genetica già parte da una diversità e anche perché voi valutate che all'origine il cacao sudamericano parte già da borsa da 3 dollari al chilo, molto tanto. Agli africani quando che lo pagano un euro al chilo stiamo già verso alti livelli, le aziende, alcune aziende italiane che pagano bordo-campo 2-3 volte il prezzo del mercato ottengono prodotto diverso. Anche perché quello che devi fare il cacao deve campare, nel senso che accampano tutti. Qualcuno prima parlava del costo, se ne ricordo... il food cost, no? Il food cost varia molto anche, uno, dalla resa. Un chilo di massa di cacao per u ti fanno molto più gelato, ti fanno molto più gelato di un po' più gelato. Quindi, dopo devi vedere anche la resa. Seconda cosa, vai a vedere anche il tipo di ricetta che fai. se fai un uso base acqua c'hai una resa, se c'hai un uso base acqua, base latte c'è un'altra resa. Io vi dico, io ho visto ottimi risultati intorno al 13%. Un gelato di massa, se è ben studiato, già al 13% vi dà qualcosa. C'è una cosa che... 15. 15. Diciamo che al 20 fai sentire le differenze. 18. Io sopra il 22% non ho visto nessuno, non so se... guardate oltre. Diciamo che di solito nessuno, per lo meno fino ad oggi, non ho visto nessuno che va sopra il 22% sul totale della ricerca. e perché poi dopo non tutti... non tutti è il caso di farli base acqua o base latte eh. perché non sono quegli estremisti che dirige tutto sul vetto, base acqua. Quei sono gli estremisti che secondo me non servono perché non riesci ad esprimere al medio il prodotto. Lo puoi usare come un metro di valutazione. Incontrare un paio di una città, io lo chiedi solo quella e non mangia nient'altra. a noi il cliente che ha lavorato in 12 anni e non mangia gelato, l'unico gelato che mangia è il Venezuela, che non è impegnativo il Venezuela, è molto impegnativo, ma adesso... Cioè... ci sono delle masse di... dopo c'è anche questa cosa. è un prodotto difficile che però gli dà una chance perché quello che vi ama quella ricetta lì, quella vuole sempre, pure d'inverno, e c'hai il cristallizzo, quel tipo di mentela che fondamentalmente gli dà le chance di chiudere una stagione leggermente più lunga. Il cacao, agronomicamente, si chiama Teobroma, cibo del vitere. Perché è uno degli alimenti più completi che esiste in natura. C'ha tutto. E il nostro corpo se ne rende conto. Perché il cioccolato sta impastato dappertutto? Il cioccolato lo trovate ovunque. Perché attrae. E è un buon... L'altra cosa che vi posso dire è non dimenticate che la cioccolata da bere voi con la preparazione tecnica da gelatieri la potete fare tranquillamente partendo dalla massa. Perché quello che voi preparate per essere poi mantecato lo potete utilizzare diluito per bere sia freddo che caldo. Quindi valutate anche quello come prodotto per allungare la stagionalità. La massa non si chiude solo con il gelato, eh? Dovete allunglarlo, eh? Dovete trovare il punto di cottura giusto, però... Io vorrei ritornare al tuo discorso iniziale. Parlavamo di prodotto agricolo. Come facciamo noi, sui cuori, sui cuori di gelato, a gelarci per avere un prodotto con una fermentazione idonea, corretta, della pava di cacao? Cioè noi parliamo di aromaticità, però il problema iniziale dove viene fuori l'aromaticità della pava di cacao è proprio l'attivazione, il primo step, giusto? Certo. Ecco. Poi, un altro problema molto grosso, che nelle varie piantagioni, dove magari un contadino serio lavora le sue piante, le cura, le coccola, che ha un prodotto eccesso. Però nella piantagione, non so, a pochi chilometri di distanza ci sono piantitidi, tipo, non so, il 551, per dirne uno, no? Che va a rovinare quella piantagione sana. Noi, che compiamo la pava, come ci possiamo operare? Allora, non è una cosa semplice, perché comunque anche i cioccolatieri, quelli che lavorano la materia prima agricola, devono fare una formazione per approcciarli. Perché, come avete avvento, nel 90% dei casi non tutti possono partire dalla nera piantagione. Questo sta nella realtà delle cose. Alcune aziende hanno un controllo di filiera più stretto. Io vi dico, quando approcciate un'azienda che vi fornisce una massa, o comunque anche una copertura, se vi sa indicare specificatamente la piantagione e il processo, già lì hai delle garanze. Nel momento in cui tu volessi andare a lavorarti le pavole direttamente, dovresti cominciare ad apprendere le tecniche di analisi, come il cat test e l'analisi sensoriale di presso. Non è difficilissimo prenderli. Noi, ad esempio, da due anni abbiamo costituito in Italia il fermento cacao, che è un alimento di tante realtà italiane che lavorano le pavole di cacao, e facciamo dei corsi periodicamente anche per dare a persone che poi magari alla fine andranno a lavorare le pavole. Però vogliono sapere cosa facciamo avanti. Diciamo che con una mezza giornata già una possibilità di approcciare, di analizzare un sacco che ti arriva a te già chiuso, se tu hai, riesci a capire se c'è stata una buona alimentazione, se c'ha delle problematiche di residuazione e se è un prodotto che ha troppa acidità. Perché poi, un'altra delle analisi molto importanti, e questo vi invito a farlo perché molte aziende lo fanno, soprattutto italiane, sia grandi, medie che piccole. E' una cosa in Italia abbastanza difficile. Fanno l'analisi sensoriale con pane di testa. Quindi di ogni rotta di cacao fanno l'assaggio. Attraverso l'assaggio delle lavorazioni, lavorando in certa maniera, si riesce a capire anche se la fermentazione è stata fatta bene. Proprio ovvio, c'è da dire una cosa. Se tu vai a lavorare una massa di cacao, la problematica l'hai scaricata addosso a quello che l'ha trasformata. Nel momento in cui tu vai ad approcciare le fave di cacao, quindi fai un'affermazione, anche quando ti trovi di fronte a un sacco che oramai l'hai recuperato, perché il mercato delle fave di cacao non è proprio libero, non è come l'occiole, voglio comprare un chilo, voglio comprare un chilo, voglio comprare un chilo. Le fave di cacao di solito almeno un sacco te lo devi comprare. Non è facilissimo prendere pochi quantitativi. e il sacco spesso capire che t'hanno mandato un campione del 2010, che è diverso da quello che t'hanno venduto. Ci sono delle tecniche per riuscire a smorzare dei difetti più grossolani. E' ovvio, quando ti capita il sacco pallato, fai che sei bevuti e non la perdono. La pianta fresca la potete vedere con l'occiole di Palermo o di Catania, però non fruttificano. Il cacao non è soltanto coltivarlo o crescerlo, è anche impollinarlo. Non è impollinato alle api, ci sono degli insetti minuscoli tropicali che impollino il cacao. E' una pianta molto, molto levitata, è difficilissima coltivarla anche nitroglico. Caffè in Italia però ci viene, eh? Ah, si, si, guarda. a un certo punto quando c'è, se non c'hai un approfiggionatore che ti garantisce una certa qualità in determinata filiera, lì ti può andar bene e ti può andar male. No, 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 però come un formatore di fiducia glielo rimandi, eh? No, no, no. Ah, si, si, quello è fondamentale. Io ho conosciuto da poco, ho fatto una formazione a un cioccolatiere colombiano, che aveva delle impostature folli, ma questo è un pazzo che lo spendeva, eresie per i cacao pregiudissimi e poi li rovinava tutti. E questo qua a un certo punto mi fa provare un cioccolato che aveva fatto 7-8 mesi prima. Era una roba pazzesca. Mi dice, ma questo che cos'è? Non lo so. Cioè, lui aveva questo sacchettino, gliene erano rimasti tipo 3 kg, e lui ogni tanto dice, terminava un pochetto, perché non sapeva più come ricostruirlo. Perché non aveva avuto il controllo di filiera, non aveva scritto. Spero, ah, non lo so. Non aveva anche la gestione di processo, non si era scritto. Allora, Alessandro adesso vi fa vedere alcune foto. Stanno, tu le vedi, le commenti che ci sono state, quindi... Questi sono, un po' di tanto tempo. Ok, no? Abbastanza di riavvicinare. Ah, ecco allora. C'è anche una fase prima della fermentazione, che è il decabossaggio. Allora, qua, dove siamo andati a fare la visita, io dopo gli ho fatto la formazione, perché questo è uno dei decabossaggi peggiori che ci sia. Ovvero, tu raccogli il frutto del cacao, lo raduni per 5-6 giorni, fai il minchio, e poi si mettono tutti intorno, lo aprono e lo mettono in fermentazione. Qual è il problema? Che io, nel mucchio della fermentazione, ho la capossa fresca matura oggi sopra, sotto ho quella che era matura 20 giorni fa e che già mi è partita. Quindi, i problemi di fermentazione spesso non sono legati tanto al processo fermentativo in sé, sono legati anche alla fase precedente di istruzione. si, dovrebbero fare come l'oliva, quando oggi domani decabossi. Si, c'è anche dopo lì c'è il discorso dei frutti. Allora, questo qua... Aspetta, guarda questo. Questo è un canecce. Allora, poi spesso succede che nelle piantagioni i cacao non sono autofertili, nel senso che se tu metti due tipi di cacao vicini, dello stesso tipo, non è detto che si possano impollinare, perché magari è un tipo di cacao solo femmina. Quindi come faccio io a moltiplicare? Lo fanno soltanto in Messico, perché principalmente ci hanno avuto dei problemi ambientali e sono morti gli impollinatori. Il costo che le sia. Anche perché voi valutate che di un mazzo di fiore impollinato solo il 5% arriva a fruttificazione. È bassissima. Qua già andiamo sul francese, è quello di cui vi parlavo prima. Mercedes? Sì, questo è un librido. Un librido di Mercedes. Sono i cacao ad alta produttività, lo vengono impiantati. Questo invece è un frutteto? È un lancio? Allora, la piantagione del cacao, in mezzo, uno vengono messi piante femmine e piante maschere. Ad esempio, la rautita è uno dei pochi cacao che si può impiantare in monocultura perché è autoimpollinante. Le altre invece vengono messi maschere e femmine. in mezzo... Allora, come si fa la piantagione del cacao? È autoimpollinante. La piantagione come si prepara? Sul terreno si stende il banano o il platano. Accanto alla pianta del platto si mette la piantina del cacao già germinata. Per due anni il banano cresce. Il cacao cresce sotto deve essere protetto all'ombra. una volta che ha raggiunto una certa altezza si taglia il banano ma contemporaneamente hai già messo l'arancio, hai messo il compelmo, hai messo altre piante d'alto gusto. Un arancio in Africa arriva a 6 metri. È una pianta che dà ombra, è un bacino di sopravvivenza per gli impollinatori e soprattutto è un prodotto che ti rompe la stagionalità del cacao. e tu durante l'anno la piantagione ora mi metto il cacao, ora mi metto l'arancio, ora mi metto la canna al zucchero, ora mi metto l'ignam che è uno schiaccio di numero, una patatona gigante e quindi hai una ciclicità. Sono le piantagioni migliori. Questo è Andrea. Allora questo qua ho fatto io l'altro signore si chiama Boris. Boris è un coltivatore, purtroppo è disabile, ha una gamba inabile. Questo gestisce una piantagione di 5 ettari. Ma non la gestisce nel senso che lui sta sicuro. Lui, l'hanno visto, taglia l'erba a mano e fa coltivazione biologica del cacao. Quindi fa facciamatura, un cerbo a mano, fa controllo della piantagione perché poi, l'ho detto, usare una materia prima scarsa significa che anche all'origine hanno fatto un lavoro pessimo. Perché non venivano pagati? In Sud America, avendo una buona remunerazione del cacao, fanno le potature, fanno lo scerbo controllato, poi fare gli innesti, cioè hai una coltivazione che ti permette di lavorare bene. Oggi, a prezzi attuali, se si paga un cacao al contadino sui 3 dollari e mezzo, stai ottenendo un prodotto di altissimo livello. 3 dollari e mezzo significa che, in Italia, la massa di cacao vi arriverà sui 18-19 euro al contadino. Spiega questo. No, 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 viene fatto in divaglio. Divaglio e poi si investe. Si mettono dei portainnesti, di solito sono delle piante con... come la vite, la vite fanno una barbatella, no? Si stacca, hai la barbatella della radice più forte e ci innesti l'aroma quello che c'è qui dove. Spiega questo. Questo, ad esempio, è una fermentazione a foresta. Praticamente viene scalata una buca a scivolo, si fa un'altra buca più profonda, mettono le foglie di banano, mettono tutta la massa in fermentazione e la prima colatura del succo in fermentazione lo raccolgono. Ci fanno questo vino rudimentale. E in casilla ci fanno il gelato con la prima colatura. Quindi qua, qua vedete, insomma, avete visto, hanno decambossato e vanno a mettere tutta la massa delle fave con la bocillagine nel montone di fermentazione. E questo è la raccolta. E questo è quello che vola. È una cosa molto naturale. Tra pareti, la fermentazione, ultimamente stanno attivando a fare fermentazioni in acciaio, non funzionano. Perché la migliore fermentazione che si fa è quella in legno. Il legno chiaro. Perché il legno funziona come il vino. Sviluppa quei batteri che permettono una fermentazione omogenea, completa e cedono gli aromi molto particolari al fakao. Fare una fermentazione naturale, di solito, è comunque meglio dell'acciaio, però non ha l'innesco di fermentazione che può avere la cassa di legno. E qui, qua, qua. Non l'abbiamo fatto noi, anche loro lavorano direttamente. Uno dei lavori che faccio, principalmente nelle piante a giorno, è proprio quello di far conoscere come si fa il cioccolato perché, soprattutto in Alpica e in Asia, i produttori di cacao non mangiano cioccolato. Perché non ne conoscono la traspettazione. Allora, andiamo sul gelato e poi abbiamo più soli. Qua invece abbiamo l'essiccazione. Andrea? L'essiccazione è finita. L'essiccazione è finita. Alla luce, al sole, durante il momento in cui si toglie la strumenta. Allora, lascio uno spazio perché... Allora, troppo, troppo. Avete quindi assaggiato i due cioccolati sul baserato. Il primo era posta da vuole, il secondo, con la stessa ricetta identica. Qua siamo circa con 21 di zuccheri. Come soliti, siamo 45. E grassi, siamo intorno al 9... Sono 9,50. Quindi... Come? Sì, diciamo che... Questa è una prova che abbiamo fatto per qua. Io il negozio lo faccio addirittura con più percentuale. È rimasto al... Ci va a Andrea, al 19, 20%. In conseguenza, la differenza... Qua siamo al 16, c'è. Quindi la differenza tra le due origini si sente molto difficile. Però, così, a me personalmente piace perché si sente, ma non è perché sotto me... Ho fatto... Poi, vi ho detto, faccio in realtà su acqua. Non... Tendenzialmente non li faccio su latte. Quindi... Il risultato è questo. Non so che già... Come vi sembrano. Applausi. Grazie. Grazie.